Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema del lag su Alan Wake 2 ovviamente io con una 1660 Super processore Ryzen 5 3600 con grafica tutto alta ho fatto anche un benchmark e gli fps che riesco a fare sono tra i 17 e i 25 fps però risolvendo nelle impostazioni grafiche sono riuscito a fare aumentare i fps su Alan Wake attraverso il pannello di controllo di Nvidia e sul gioco e sono riuscito a fare tra i 45 e i 55 fps in Full HD quindi in questo caso andiamo un attimo sulle impostazioni di Nvidia quindi per chi ha Nvidia andiamo su impostazioni di Nvidia perché si deve fare tutto da qua, dobbiamo gestire le impostazioni del programma quindi andiamo su impostazioni programma e andiamo ad aggiungere Alan Wake io vado su aggiungi, faccio sfoglia e vado a prendere il mio Alan Wake dove l'ho installato e vado a scegliere così l'applicazione Alan Wake che faccio apri ed eccolo qua e da qui in poi possiamo fare moltissime modifiche quindi possiamo anche farci consigliare da Nvidia quindi ridimensionamento immagine facciamo disattivato per esempio c'è aumenta nitidezza se tu metti attivato aumenterai la nitidezza sul gioco però laggerai di più quindi se facciamo che ne so attivato e abbassiamo la nitidezza verso i 25 facciamo ok l'anti-aliose correzione gamma mettiamo attivato questo qua mettiamo disattivato su quest'altra modalità controllo dell'applicazione anti-aliasing trasparenza mettiamo disattivato filtro anisotropico mettiamo controllo dall'applicazione per esempio dobbiamo andare noi sull'applicazione e impostare così il settaggio grafico per Alan Wake che io metterei direttamente disattivato filtro struttura qualità metto prestazioni fotogrammi frequenza fotogrammi massima mettiamo attivato fino a 1000 tanto non è che faremo 1000 fps però almeno un po' di fps in più ci darà tipo 40-50 in più per quelli che hanno una buona scheda video per quelli invece che hanno una scheda video come la mia farò sicuramente 15-20 fps in più faccio ok ottimizzazione con il triad mettiamo automatico sincronizzazione verticale verticale bloccherà gli fps mettiamo disattivato tecnologia monito metto compatibilità G-Sync e velocità di aggiornamento la più elevata disponibile e facciamo applica questo era il settaggio per Nvidia ovviamente non posso fare quello per AMD perché io non ho una scheda video AMD nel video il titolo era messo su impostazioni Nvidia quindi se avete bisogno ancora andiamo un attimo sul gioco e da lì in poi andremo a sistemare varie cose meglio abbassare un po' l'audio volume generale mettiamo 9 volume musica effetti sonori ok in questo caso vado un attimo vado un attimo ad avviare Ampsi Afterburn ed eccolo qua quindi in questo caso grazie alle impostazioni di Nvidia siamo riusciti a fare più o meno tra i 39 38 fps 42 fps e adesso non ci resta che fare dei vari settaggi sul gioco quindi sulla risoluzione schermo io ho messo 1920x1080 risoluzione rendering io ho dovuto mettere 1280x720 qualità questo qua oppure possiamo anche mettere 1129x635 equilibrato upscaling risoluzione da quello che ho capito non possiamo fare una modifica sull'FSR perché io non c'ho neanche il DLSS sulla mia scheda video quindi mi devo arrangiare con l'FSR 2 sincronizzazione verticale bloccherà gli fps noi non lo faremo sulla qualità preimpostazione qualità su risoluzione texture io metto tutto basso tutto ma veramente tutto basso filtro ombre non c'è il settaggio basso quindi metto medio occlusione a bendare screen space lo tolgo riflessi globali invece di mettere basso metto no riflessi screen space metto no come potete vedere avete visto il terreno come è cambiato ovviamente non è che si vedrà un granché però metterei basso metterei basso e poi c'è l'impostazione ray tracing per chi ha il ray tracing può attivare il ray tracing e cambiare così il settaggio io ovviamente non c'ho né il DLSS né il ray tracing non c'ho niente quindi torniamo indietro e vediamo quanti fps riusciamo a fare la qualità è abbastanza buona da 17 fps a 45 e 52 fps siamo riusciti a fare almeno qualcosa quindi se questo video ti è stato utilissimo su come aumentare un po' gli fps su Alan Wake 2 grazie a tutti per questa visione ragazzi lasciate like e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao